Nel rapporto esaminiamo le disuguaglianze legate all'istruzione. Sappiamo che la pandemia ha acuito alcune disuguaglianze strutturali del nostro Paese. L'istruzione è probabilmente una di quelle. Noi siamo partiti da un divario tra centro-nord e mezzogiorno nella dotazione di capitale umano, un divario importante e questo in un contesto in cui tutta l'Italia era in ritardo rispetto al resto dell'Europa, nonostante i progressi che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Ora, al contempo sappiamo anche che investire in istruzione è invece la nostra migliore assicurazione contro la disoccupazione e l'inattività. È stato vero nelle precedenti crisi, è vero in quella attuale e la pandemia però ci ha costretto a interrompere la didattica in presenza, a iniziare a ricorrere alla didattica a distanza. Questo può avere effetti sulle competenze e sulle abilità dei nostri ragazzi. Lo segnalano anche nelle nostre indagini le famiglie italiane. È sicuramente vero che molti sono partiti da dotazioni di tecnologie e abilità digitali molto diverse. In parte il sistema ha tenuto perché sappiamo che tra quelli che hanno richiesto apparecchi tecnologici e digitali, ben l'86% in breve tempo li ha ricevuti. Ciò non toglie che l'effetto di mancata partecipazione si è concentrato sui più vulnerabili, sulle situazioni più difficili, sul se in media l'8% dei nostri ragazzi non è riuscito a seguire le video lezioni che sono la forma più vicina alla didattica in presenza. Questa percentuale sale per i disabili al 23%, nel mezzogiorno al 29%. È anche vero che questo però ha significato che i nostri giovani hanno subito uno shock che apre loro l'opportunità a quello di essere più digitali, di aver familiarizzato con internet per scopi diversi da quelli del gioco. È anche vero che abbiamo visto che molti che non avevano apparecchi li hanno ricevuti e questo non può che avere un effetto positivo sui nostri ragazzi che saranno i lavoratori di domani.